Ciao a tutti! Oggi prepareremo il salmone al cartoccio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono salmone fresco, pomodorini, capperi, olive, sale, pepe, patate tagliate a pezzetti, origano, basilico, acqua e sale. Andiamo in via alla ricetta. Iniziamo la ricetta contendo i pomodorini. Mettere il sale, il pepe, l'origano, e il basilico. Irroriamo con un filo d'olio ed amalgamiamo bene. Mettere nel boccale l'acqua, il sale, posizionare il cestello con le patate, chiudere con il coperchio e condire il salmone. prendere un foglio di carta da forno, mettere un pezzo di salmone, i pomodorini, i capperi, i capperi, le olive, chiudere e posizionare nel varoma e ripetere l'operazione con il resto del salmone. abbiamo posizionato il salmone nel varoma e nel vassoio del varoma. chiudere con il coperchio e cuocere per 30 minuti. temperatura varoma, velocità 1, il salmone è cotto, impiattare e servire con le patate. salmone al cartoccio. grazie e alla prossima ricetta! seguita la prossima ricetta! Grazie per la visione!